e allora piacere a tutti sono vincenzo questo è il primo video che sto facendo no va bene basta mi è seccato come potete vedere qua ci sono i miei contatti il canale si occuperà principalmente di programmazione ma anche perché no di matematica informatica ci vorrei infilare anche scancat ma vedremo cosa succede nel tempo e quindi stiamo iniziando la prima serie di video riguarderà la creazione di un sito con wordpress e all'interno di questo video inserirò all'interno di questo sito inserirò tutti i video relativi a come si programma e come si realizza un sito buonasera a tutti e metti il mi piace e aggiungi con il tasto di youtube ai preferiti ciao